Abbiamo ricevuto questa menzione per un progetto che riguarda una proposta che abbiamo fatto all'interno di un piano, di un aggiornamento di un PGTU, di un comune della pianura bolognese. Il progetto, brevissimamente, riguarda la classificazione di strade in ambito extraurbano, FBIS, che è una categoria del codice della strada attualmente ancora poco utilizzata, e al fine di perseguire alcuni obiettivi che ci eravamo mandati nel piano, quali in particolare disincentivare il traffico improprio su queste strade e favorire la mobilità dolce ciclobedonale, è stata proposta questa classificazione. In parallelo è stata proposta una sperimentazione di alcuni dispositivi di moderazione del traffico lungo queste strade, in quanto la classificazione FBIS prevede appunto da codice che queste strade siano intrinsecamente sicure per gli utenti deboli e quindi per certificare questa peculiarità abbiamo proposto anche un progetto di sperimentazione che prevede appunto un monitoraggio post e ante l'installazione di questi dispositivi di moderazione del traffico. Il valore aggiunto potrebbe essere creare un precedente tecnico-amministrativo per poter poi magari ripetere la classificazione e l'installazione di questi dispositivi in strade dalle caratteristiche omogenee che sono presenti per esempio in buona parte del territorio della pianura dell'Emilia-Romagna.